Buon pomeriggio a tutti cari amici da Nicola De Lucia. Per SmackDown, come ho intitolato il video, nuovo match annunciato. Questa notte avremo John Morrison e il magnifico Demise che andranno a sfidare Roman Reigns e un partner misterioso, visto anche il discorso che gli usos per motivi di fedina penale, diciamo così, per vari episodi, non possono oltrepassare i limiti ai confini americani, quindi essendo la puntata in terra canadese non possono far parte. Quindi, ribadiamo, Morrison e Demise affrenderanno Roman Reigns e un partner misterioso che staremo a vedere chi sia. Potrebbe essere un ritorno o chissà, magari, o anche, adesso mi viene in mente, ad esempio Ali, Mustafa Ali, potrebbe essere un buon partner. Comunque staremo a vedere domani, non mancherà il video con i risultati e quando sarà successo nello show blu, in questa, tra la notte di oggi e domani. E poi lunedì, prima ovviamente la consegna del computer per la revisione e quant'altro al negozio. In mattinata vedrò di fare qualche video e di parlare magari anche di NXT. Quindi, concludiamo, ribadendo una terza ultima volta, John Markson e Demise andranno ad affrontare Roman Reigns e un partner misterioso. Ciao!